ciao bambine e bambini oggi scopriremo una nuova tappa del tour di prima valle siete pronti e iniziamo allora ci troviamo su via pietro maffi e alle spalle abbiamo la vostra scuola mentre di fronte a noi beh di fronte a noi c'è la pizzeria storica di quartiere è già la pizzeria romolo e romolo è il nome del proprietario è un personaggio alto robusto e veramente gentile e poi ti sorprenderà con le sue battute romanesco ci sono pizze di tutti i gusti bassa e scrucchierelle al punto giusto e ancora i fritti con il supplì dalla panatura croccante primi secondi pizza con la nutella insomma avrete l'imbarazzo della scelta ora romolo è a casa come tutti noi ma presto riaprirà quindi se non avete ancora assaggiato la sua pizza vi consiglio di farlo intanto raccontateci qualcosa voi e se la conoscevate già questa pizzeria raccontateci cosa mangiate di solito con chi ci andate e altrimenti se non l'avete ancora vista provate ad immaginare quale potrebbe essere la vostra merenda preferita ad immaginarvi il proprietario cosa gli chiedereste insomma rispondete a queste domande e inviateci i vostri testi saremo curiosi di leggerli ciao 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 Grazie a tutti.